GECKO GERIC! Ecco fatto, Eric! Adesso il tuo braccio è tornato come nuovo! Meccanici? Cosa state facendo? Oh, ho capito! State cercando il tesoro dei pirati! Ahoi! Bravi, Marilai! Che cos'era questo rumore? Eric ha trovato qualcosa! Forse è proprio un tesoro sepolto! Che cosa potrebbero essere? Oh, gialla! Anche se questo non è oro, non significa che non sia comunque un tesoro! Questo è un vecchissimo carretto ferroviario! Ma... Credo che manchi un pezzo! Wow! Eric ha trovato anche i vecchi binari! Forza! Provate ora, meccanici! Visto? Solo perché qualcosa non è d'oro o d'argento, non significa che non sia un tesoro! Buon divertimento, meccanici! Ah, è così bello stare in vacanza! Io adoro il campeggio! Oh, la fiamma si è abbassata! Gialla? Prenderesti altra legna, per favore? È il momento di una storia! Credo che il libro delle storie sia nella roulotte verde! Grazie, gialla! Aspetta un momento! Quelli sono i blocchi delle ruote! Il che significa... Presto! Dobbiamo fermare la roulotte! Deve esserci un modo per riuscire a fermarla! Grazie, verde! Per mille bulloni svitati! Urrà! Ottimo lavoro, Tilly! Oh, complimenti a tutti! Emergenza finita! Sì, verde! È l'ora della storia adesso! Ci vediamo presto! Ciao! Ehi, è Max! Il Monster Truck! Che possiamo fare per te oggi? Oh! Vorresti somigliare al tuo eroe, King Crush! Credo che si possa fare, Max! Ora prendo i miei attrezzi! Meccanici! Intanto iniziate voi! Sedicare! Ciao! Tres, detto che èwny! céu, che è bom! ecco qua! ho preso tutti gli attrezzi meccanici! che cosa avete fatto? oh, per voi sarà anche fantastico così ma non è quello che Max voleva non preoccuparti Max, sistemeremo tutto ecco fatto Max! era questo che volevi? un altro cliente soddisfatto all'officina di Gekko ci vediamo presto! bene meccanici! Max vorrebbe migliorare nel salto quindi dobbiamo dare più potenza al suo motore oh? blu! puoi andare a vedere chi ha bussato per favore? chi è? spero tanto che apprezzerai il mio piccolo regalino Gekko che cos'è? un regalo? chissà chi me lo manda wow! un nuovo cric per auto dai proviamolo subito visto che ho messo una molla in quel cric penso che lo troverai un po' rimbalzante meccanici! grazie mille meccanici ho l'impressione che quel cric non funzioni molto bene aspettate un attimo coraggio Max provo a saltare visto? tutto può servire a qualcosa ottimo lavoro meccanici benvenuti alla grande corsa dove io Wilbur T. Weasel dimostrerò di essere il meccanico migliore e più veloce della città con il mio turbo potente monster truck sta tranquilla Tilly non ci serve un motore speciale per vincere tu non mi hai mai deluso prima d'ora molto bene Gekko la gara avrà inizio quando quella luce diventerà verde pronti? partenza via! vai vai Tilly vai! non vedo l'ora di ricevere la scintillante medaglia del vincitore starà benissimo con il mio scintillante orologio bravissima Tilly calma e decisa attivare la turma potenza non fermarti dobbiamo correre a salvarli Tilly stiamo affondando aiuto non preoccuparti signor Weasel ti tireremo subito fuori da lì ecco suppongo che tu abbia vinto onestamente Gekko ma la prossima volta sarò io il vincitore della gara l'officina di Gekko vi aspetta per nuove avventure ciao ciao grazie rosso oggi è una giornata davvero molto calda guarda laggiù rosso camioncina e mamma camion vanno a fare un picnic ma camioncina non ha affatto un bell'aspetto tranquilla camioncina forza andiamo a vedere cosa c'è che non va ecco ho capito qual è il problema sei troppo calda camioncina presto meccanici portatemi dell'acqua oh cielo non hai bevuto abbastanza acqua non è vero? è molto importante bere tanta acqua quando fa molto caldo così va meglio ma secondo me sei ancora troppo calda mi è venuta un'idea rosso per favore imposta il lavaggio a freddo molto bene camioncina va a rinfrescarti ah 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 così va meglio ora potete tornare al vostro picnic passate una bella giornata Ciao, ciao! C'è una buca laggiù! Chiederò al camion dei rifiuti Dylan e a Eric, l'escavatore, di ripararla! Accidenti! Sembra che l'autobus Bobby sia nei guai! Per tutti i bulloni! Ha avuto un incidente! Tiriamolo fuori, Tilly! Non preoccuparti, Bobby! Ti rimetteremo a nuovo e tornerai presto in strada! Porte dell'officina, apritevi a tutta velocità! Dobbiamo aiutare un amico in difficoltà! Dobbiamo scoprire qual è il problema! Per prima cosa controlleremo i tuoi occhi! Tocca a voi, meccanici! Non è questo! I tuoi occhi ci vedono bene! Controlliamo le tue ruote! Sembra che neanche le tue ruote siano il problema! Finalmente ho capito! Hai un semiasse piegato! Non preoccuparti! Te lo aggiusteremo in un batter d'occhio! Adesso riuscirai ad andare dritto! Il tuo asse è tornato come nuovo! Sono felice di aver risolto il tuo problema! È così bello poter aiutare gli amici! Ciao, Bobbi! Oh, cielo! Ti sostituiremo noi quel vecchio paraurti! Molto bene, meccanici! Potreste rimuovere il paraurti, per favore? Ma state attenti! Piano, piano! Sì, così! Fate attenzione, meccanici! Dobbiamo lavorare come una squadra! Oh, grazie, verde! Oh, mi dispiace tanto! Dovrete finire di sostituire il paraurti da soli, meccanici! Oh, grazie, verde! Molto bene! Bene, meccanici, dovrete lavorare come una squadra! Oh, ottimo lavoro, meccanici! È questo che intendevo con lavoro di squadra! Molto bene, Bobbi! Bella presa, verde! È il momento di ridipingere l'insegna, meccanici! Blu! Puoi andare a prendere la vernice verde e salire insieme a gialla sul tetto? Oh, cielo! Fiona ha preso una botta sul paraurti! Forza, vieni dentro e ripariamolo! Verde, abbiamo bisogno della colla extra forte, per favore! Ciao, ciao! La colla non dovrebbe essere verde Blu e gialla devono aver preso la colla Presto, Rosso, sali subito sul tetto Oh, povero Rosso Dovremmo salire sul tetto in un altro modo Oh, cielo Che situazione appiccicosa Dobbiamo liberarvi da lì prima che la colla si asciughi Fiona, possiamo usare il tuo tubo, per favore? Non preoccupatevi, meccanici Presto sarete liberi Ottimo lavoro, meccanici Io e Fiona sembriamo entrambi nuovi di zecca Mi passeresti una chiave inglese, Blu? Non è una chiave inglese, Blu È un cucchiaio di legno Questa mi sembra camioncina Mi chiedo per cosa sia così elettrizzata Le ruote di Weasel Ha il piacere di presentarvi il suo nuovo fantastico elettromagnete E ora come si spegne? Oh, no! Oh, no! Il signor Weasel ha problemi calamitosi Va tutto bene, Gekko E se solo tu staccassi la corrente girando quel bullone lì? Blu, fermo! Un magnete attira tutto ciò che è fatto di metallo Oh, no! Meccanici! Oh, lo so, mamma riciclo Devo staccare subito la corrente Ma non posso usare strumenti di metallo Ma certo! Il cucchiaio di legno! Va tutto bene, amici! Con un po' di ingegno Vi libero grazie a un cucchiaio di legno No! Quella Gekko non funzionerà! Ah! State tutti bene? Oh, fantastico! Noi ci vediamo presto per altre avventure all'officina di Gekko! Ciao! Ah, ma che bella giornata di sole! Ah! Cosa sarà mai quello? Wow! Con questo gonfiabile gigante vedranno la mia officina da chilometri di distanza! Ah! Oh, che sarà mai ho da fare io? Max! Hai bisogno di gonfiare le gomme? E va bene! Un attimo! Il signor Weasel non sta usando l'aria per gonfiare le gomme di Max Sta usando l'elio del gonfiabile! Il che significa... Ah! Non preoccuparti, Max! Sto arrivando! Per mille bulloni svitati! Come sarebbe colpa mia? Oh, niente paura, Max! Penseremo a qualcosa! Max! Se tolgo un po' di elio dalle tue gomme possiamo scendere come una mongolfiera! Ci sono, Max! Verso l'officina! Ecco fatto, Max! Sei come nuovo! Glielo farò vedere io a quel gecko una volta che il mio gonfiabile sarà pronto! Oh, guardate, meccanici! C'è la famiglia Camion! Buongiorno a tutti, amici! Oh, la tua barca a bella è davvero stupenda, camioncina! Oh, no! Uno pneumatico! E sta andando dritto contro la barca di camioncina! Grazie, mamma Camion! Ora dovremmo riciclare quel vecchio pneumatico! Aspettate! Guardate! Altri rifiuti! Chissà da dove arriva tutta questa spazzatura! Dobbiamo scoprirlo! Tu resta qui, gialla! Devi proteggere la barca! Guarda, ancora rifiuti! Ma da dove potrebbero arrivare? Signor Weasel! Ma che stai facendo? Oh, ciao, gecko! Sto cercando di liberarmi di tutta la mia spazzatura! Ma i freni si sono incastrati! Non dovresti buttare i rifiuti nel fiume, signor Weasel! Sta andando verso camioncina e la sua barca! Così li colpirà! Non dovresti buttare i rifiuti nel fiume, signor Weasel, altrimenti lo inquini! Stavi per distruggere la barca giocattolo di camioncina! Una barca? Non gioco con una barca da quando ero una giovane donnola! Forse mi è venuta un'idea! Lo sai, la spazzatura può essere riciclata! Si possono creare bellissime cose dai vecchi rifiuti! Ti faccio vedere! Forza, marinai! Levate subito l'ancora! Attenzione! È in arrivo la bellissima barca di Weasel! Oh, è davvero divertente! E questo era l'ultimo! Finalmente il fiume è di nuovo pulito! Ci vediamo la prossima volta! Ciao! Andiamo, Blue! Credo sia ora di andare a dormire! Buonanotte, meccanici! Bobby! Che cosa fai qui a quest'ora? Oh cielo! Serve una ruota nuova! Posso pensarci io! Però, dobbiamo fare silenzio! Ci è mancato poco! Non, 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 non! Ecco fatto, Bobby! Buonanotte! Buonanotte! Beh, mi sa... Che mi sdraio qui un minutino! Ais... Ah... Buonanotte! Ah! Uzz! Grazie a tutti.